Beh, buongiorno Peppari, che sopra? Buongiorno, voglio fare una piccola. Ah, voglio fare una piccola cosa c'è? Ho provato. Ho capito? Quindi, sei venuto a fare la provvista? Vado, vieni, quelle cattelle. Vieni, che bella piccola si sta cogliendo Peppari. Ah, vieni che è venuta. Ha venuto, ha anticipato tutto Peppari. Le nardo muovono pure e si mangiano pure. Ho capito? Per le tante. Ce ne è, ce ne è, ce ne è. Potremmo pure regalare volendo, però c'è gente giusta, c'è gente per bere. Ah, c'è gente per bere. Quello che si ammette, non so se no è meglio che si mangiano la terra. I vesperi. I vesperi, anche se no. Quello che si ammette, ci facciamo provare. Ma pure un buon cos'ammerdito ci siamo. Come no? Come no? Anzi, prima che avessi un assaggione, ci sono proprio quelli come si ammette. Vabbè? A questo è un bagno. A questo è meglio il bagno. Vabbè? Vabbè? Guarda che è. 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 Guarda che è stracciato lui. Comunque, comunque in Germania. E comunque l'assaggio non ci può essere perché... Non ci può essere l'assaggio oggi. Non ci può essere l'assaggio. Non ci può essere l'assaggio. Lo facciamo un altro giorno. Però, 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 volendo, 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 glielo faccio io l'assaggio e senza sbucciare con tutta la corda questo è il vaccino per me questo è il vero vaccino no 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 sei zitto tu tu parla per te io parlo per me non mi fanno niente a me ma che ne sai? o mi chiamerai a me? no a me mi sono soltanto spari punto e che ti spiega? che non ti spiega? che non ti spiega? mi sono soltanto alla fronte alla fronte? si si, vai a dire che cosa è e poi non ti chiamo che non si può spari e vabbè, ma quando mi sono spari vieni la faccia qui, la vega rossa là su mi devo prendere un arombro per me, se tieni delicato mi prendere un palco e adesso ci spiega si, è buono mi devo prendere un po' per me e devi guardare un'attività ma Luca, ti spiega al controllo? i palco più pesano non mi proviare un arombro per me se vuoi fare un arombro per me non mi avrò perché sia per me si parla, tu c'hai ridelicata qua quel figo, ma tu fai cosa d'altra, tu sei rustico, va buono, va bene, detto questo, salutiamo a tutti, a tutti ci rinuniamo un saluto.